La fondazione di Banca Intra Onlus e la fondazione di Università di cui lei è presidente puntano molto su questa iniziativa. Sì, noi ci crediamo molto, crediamo molto nell'Università e crediamo molto nell'idea di ristrutturare, quindi di dare dei contributi per realizzare dei nuovi spazi, per far rivivere le tradizioni, eccetera. Ma poi soprattutto di dargli continuità, quindi dargli gambe e fare in modo che ogni anno si rinnovi questo entusiasmo, questa voglia di fare mostre, di offrire al territorio degli spazi dove potersi ritrovare e fare degli eventi. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono, abbiamo modificato nel primo piano le mostre, quindi sono state tutte rinnovate, sempre nelle linee base che sono quelle delle tradizioni, eccetera. E poi soprattutto le collaborazioni con altri enti, altre associazioni, vengono sempre rinnovate e con nuove motivazioni. Da quest'anno abbiamo anche, come Università, inaugurato lo chalet di Villa Faragiana a Meina, con il quale intendiamo collaborare ed è una collaborazione che vogliamo mantenere viva anche per offrire ai turisti diverse opportunità.